Regime fiscale del mining, tassazione del mining, che cosa succede ai nostri proventi in cripto che derivano appunto dal minare le criptovalute, in particolare i bitcoin. Il mining che in realtà ha differenti, gli approcci sono diversi nel mondo, ma noi in questo video ci focalizziamo sull'Italia. L'Italia ovviamente lo considera se come attività effettuata abitualmente, attività di business, attività commerciale a tutti gli effetti e quindi se la svolge per il tramite di una società, che può essere una SRL per esempio, la tassazione è quella delle SRL. Quindi i proventi che derivano dalla produzione di queste criptovalute vengono tassate al 24%, che invece sono fatte sotto forma di persona fisica e allora la tassazione può salire per le aliquote IRPEF crescenti fino al 43%. Facciamo attenzione perché anche se dovesse essere un'attività occasionale, il nostro legislatore, il vostro legislatore, perché io sono andato via dieci anni fa, prevede comunque l'applicazione, la ricaduta in una fattispecie che è determinata a redditi diversi. Nei redditi diversi l'applicazione dell'imposta arriva di nuovo fino al 43%, per cui non si ne esce a destra o a sinistra il mining in Italia e tassate.